Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi il mio amico Simone, un ragazzo che tra l'altro ho tra gli amici anche nel profilo privato di Facebook e che mi segue ormai sul canale da tantissimi anni, praticamente quasi dagli inizi, mi ha mandato un pensierino, anzi, date la popò di scatola, mi ha mandato un pensierone e siamo andati a ritirarlo al negozio, all'edicola del nostro amico Gianrico, quel ragazzo che collabora con noi sul canale, che fa tutti i video di pittura, lore e cose del genere, perché da lui abbiamo la casella postale. Abbiamo già visto, onesto, cosa c'è dentro, abbiamo già provato a mangiucchiare e a bere qualcosa e vi dico anticipatamente che sono dei prodotti tipici del Trentino e ci ha mandato della roba che ora vi facciamo vedere da vicino e lo ringrazio davvero immensamente di cuore, ma poi ti ringrazio anche a fine video ovviamente, grazie. Mitico. Vi faccio vedere cosa c'è dentro, ma prima di tutto, sigla. Nella scatola delle meraviglie, tra l'altro c'era la letterina qui da qualche parte, con scritto Cari Andrea e Aurelie, mia moglie, mi permetto di chiamarvi per nome perché questo pacco è per voi e non riguarda il canale. Mi avete tenuto compagnia in un periodo molto molto brutto della mia vita da cui sono uscito anche per merito vostro, quindi è una cosa che quando lo leggo, vi giuro, mi mette la pelle d'oca. Quindi questo pacco è per voi, per ringraziarvi di quello che, senza saperlo, avete fatto per me e recuperare tante donazioni che avevo voluto farvi, ma per ragioni personali non ho potuto mandarvi. Chi se ne frega, tranquillo. Boh, alla faccia. Tu avessi donato, guarda, tutta la roba che ci ha mandato veramente non sarebbe nemmeno niente. Fidati perché è veramente un pacco pieno, zeppo di roba. Tra l'altro, vediamo l'ora, qualcosa abbiamo già assaggiato, ma vediamo l'ora di sbaffarci tutto. Colpa mia. Ecco, colpa della bimba. Considerano un piccolo regalo pasquale, poi mi direte se vi è piaciuto oppure vi ha fatto pietà. Dei mangioni come noi, comunque, hai già capito che ci piacerà. Nell'attesa di potervi incontrare magari in Trentino davanti a qualche buon piatto tipico e del buon vino. Quindi ho fatto anche la rima, io fratello, io bro, grandissimo. Allora, intanto Simone, ti ringrazio veramente di cuore e ti dico una cosa, apro una piccola parentesi. Io il Trentino non l'ho mai visitato, però quando lavoravo al distributore di benzina, il mio capo era del Trentino. Lui era di Cless, esattamente, che dovrebbe essere in provincia di Trento o qualcosa del genere, se non erro. E tutti gli anni ci portava sempre una scatola di mele, una cassa di mele. E sì che, buona parte le mele più buone che abbiamo mangiato, e quando veniva un po' di domande, le chiedevo, insomma, com'era il Trentino. Poi conosco un altro ragazzo, Moritz, con cui sono buon conoscente e mi seguo sul cane a tanto tempo, perché anche lui è del Trentino. Io non ci sono mai stato, però per le foto che ho visto, Val di Non, Valle dei Laghi, tutti quei posti lì, il Trentino, ti giuro e non sto scherzando, e sono nato e cresciuto in Toscana, sicuramente la regione dove mi dicessero, schiocca le dita e vai a vivere in una regione, io forse direi Trentino, perché ho visto dei posti che veramente mi garbano da morire. Tra l'altro, che mi si vede qui nascosto ora, c'è il bollino sopra, il pizzicagnolo, ma io ti domando e scrivimelo poi qui sotto nei commenti, Simone, ma è un'azienda di famiglia o l'hai ordinati da qualche parte, tipo Giordano, a volte cose del genere, così, per sapere. Abbiamo già provato a bere una cosina e abbiamo anche aperto un formaggio, così, mentre si era a tavola anche con mio padre, l'abbiamo assaggiato. Ci sono dei Trenker del Sud Tirolo, voglio in tedesco. Perle di Brezzel, che sono di una bontà disumana, tra l'altro tutto quanto scritto in tedesco, buono, buono, buono da morire, vi giuro. Io spero passi un pochino l'idea di quanto possono essere buone, ma sono fenomenali, sono di una bontà disumana, vabbè, non sono tipo Brezzel, per farvi capire come è il gusto e tutto quanto, tra l'altro salate al punto giusto, buoni, buoni, buoni. Sembrerebbe una specie di limonata o sidro di mele, qualcosa del genere, mela con melograno e barbabietola. Questo ora ci si versa un pochino nel bicchierino e non ho la minima idea. L'odore è buonissimo, sembra anche un po', sembra un po' pera a sentire, per quanto pera non ci dovrebbe essere da quanto c'è scritto, però l'odore mi ricorda un po' la pere. Ne facciamo anche il sommelier della situazione. Colore tipo albicocca, colore qualcosa del genere, vero, pesca, fai sentire? No, è buonissimo. Ti prego, assaggialo. Assaggia! Davvero, si sente tanto il... Fa il sommelier, o? Com'è? È buonissimo. Ma è buonissimo. È la fine del mondo, è buonissimo. Di questo, Simone, ne vogliamo una cassa intera, eh. Giusto per chiarire. Poi all'interno ci sono formaggi e ce ne sono addirittura tre, che uno qui è andato disperso. No, questo qui, vabbè, un po' di lardo. Cioè, una fettona disumana di lardo grasso che questo... Ah, lo diciamo subito, eh. Questo non è un video per vegani e vegetariani, eh. Che non si offendono, per l'amor di Dio, ma... A noi ci piace da morire questa roba. E io, quando si fa a volte anche la bistecchina di maiale, a volte... Mi piace quasi di più la fetta un po' di lardo e di grasso che la bistecca alla ciccia, in sé per sé. Quindi, queste qui ce le pappiamo e ce le mangiamo tutti. Poi, all'interno... Oh, funghi! No, biscotti all'anice! Biscotti all'anice! Miei! Miei! Faccio capire l'anice! Biscotti all'anice, fai senti? Il bello è che facciamo questo video, abbiamo appena cenato, sono pieno fino a qui. Vabbè, chi ce ne frega? Si mette dietro le orecchie. Mi senti nel muore? No, no. Fami sentire? 8 kg in arrivo. Sale marino, fai le scorse di limone, no, è buonissimo. Si, però è un po' zuccherato, perché di solito l'anice un po' allega in bocca, no? Un sapore abbastanza, abbastanza forte. Questo forse è un po' zuccherato, passa meglio. Poi, vabbè, una delizia, mela caffè. E questa me la devo assaggiare subito. Cos'è? Una marmella... Mela caffè! Eh, sembra... L'odore è lo stesso del po' che il coffee. Senti un pochino. Cioè, è mela al caffè. Senti. È stranissima. Senti un po'. Allora, devo provare. No, oddio! Senti là. Sono tantissimo di caffè. Caffè macinato. Sì, però con la mela. Senti un po', alla mela. No, te ti ci fai un panone in questa vino, non un panone. No, ma si male, ma a te mi vuoi fare un caffè? Te l'ho detto. Questo pacco c'è scritto 8 chili. Questi biscotti. Bio Spitzbuben. Tiger Tank and Panzer IV. Questi qui, anzi fear. Biscotti farciti. Bio. Questi qui ora non si sta apri tutto a provarla, anche perché poi mi dispiace che se la roba non si finisce subito, quella aperta, poi dopo piglia un po' di aria, magari diventa un po' anche... diventa un po' molliccia. Questo, questo è lo scettro del re, un salamino spesiato, molto no, più che altro più che spesiato, questo qui è impepato, che non vedo l'ora di mangiarmelo. Poi, che dici, che dici, un basta, la bomba a mano. Questo dovrebbe essere del pane, pain complete, pane con semi di zucca. La mia pronuncia, 500 grammi. Poi vabbè, un'altra confettura, comunque qualcosa. Ora non sto a aprire tutto qua, perché veramente sembra la scatola di Mary Poppins. Altra roba qua dentro, che questo qui è un... Cosa è scritto? Krieg, guerra. Questo è apfel, mela, mostarda di mela, tra l'altro. Queste invece sono sottaceti bio shiitake pilze, funghi shiitake bio. Funghi shiitake? Questa è roba... Cos'è il giapponese? Shiitake? Un'ignoranza madornale, però mi si è appiccicata tutta la mano, tra l'altro, nel frattempo. Pezzo... Una soppressata? Sì, ma una soppressata, sì, esatto. Sembra una soppressata, un mortadellone, varia cosa di volo, boh. Una soppressata secondo me. Cioè, tu sì, sembra anche a me una soppressata. Ma cos'è? Questo qui è... Cubis Kirlin e Sesam con semi di zucca e sesamo, tipo schiacciatine. Schiacciatine, semi di zucca e sesamo. Cos'è la... Le frittelle di Pasqua sono tipo... Praticamente. Poi, un altro formaggio, questo mi ricorda un po' l'Erdammer. E poi, bene, mi aff... Sì, ancora! Ma quanti ceredi ho poi? 70 anni. Il mio concio diventa matto. Beh, io divento matto. E dovrebbe essere finita, no? Aspetta, non è finito. C'è l'ultima... L'ultima sorpresa che... Apriamo... Madonna, tutti questi fili. Ora mi faccio la parrucca, la drag queen di vento. Martissimo. Questa è un'altra confettura. Questa qui, invece, questa qua giù, questo bel barattolone, bello, grande, è dente di leone, frutta da spalmare. Dente di leone. Della Unichoff. Ti ringrazio veramente di cuore. Un bellissimo pensiero, un bellissimo regalo. E fidati, eh, mi è dispiaciuto, non l'avete potuto donare negli anni, nel tempo. Preferisco che una volta l'anno mi mandi rosa del genere. Guarda, te lo dico sincero, a parte gli scherzi, che è buonissimo e poi sempre un bel regalo. Fai contento, di sicuro. Ottimo regalo. Ottimo regalo, perché c'è della roba da mangiare che poi, soprattutto a noi, che siamo di bocca buona e di mangioni, ci ha fatto il regalo più bello della vita. Non me l'aspettavo. Quando sono andata a prendere il mio amico Pippo, sentite, pesava, Gianrico. Ho detto, cos'è? L'ho aperto e vedendo sta scatola così, ho pensato al vino. Lì per lì, olio, vino, cose del genere. Quando l'ho aperto mi sono apitati apposta, proprio per me. 50,50, una fitta di formaggio e dall'altra parte il coso qui. Il salame pepato. Quindi sono subito partito di testa e ho detto, no, vabbè, qui ci muoio veramente. Quindi grazie, grazie, grazie immensamente di cuore, Simone. È un onore, soprattutto grazie per la letterina e ci ha fatto veramente un sacco di piacere. Siamo contenti, anche a nostra insaputa, di aver ti aiutato, di aver ti dato una mano a superare i periodi. E colgo l'occasione, mi scuso se qualche volta in video mi avete visto. In video no, più che altro in live un po' scazzato, un po' a volte arrogante. Ma perché comunque anch'io, come te Simone, lo sai che mi segui. Ho passato un po' un periodo un po' scazzato, mettiamola così. Quindi ci siamo veramente aiutati a vicenda e grazie, grazie di cuore. Ci pappiamo tutto ora, eh? Ora si rimette tutto dentro, si porta giù e ce lo pappiamo. Grandissimo Simone, grazie di cuore. Grandissimo Simone, grazie di cuore.